Che ve ne pare se un uomo ha cento pecore e una si perde, non lascerà le 99 nel deserto per andare a cercare quell'unica che si era perduta? È il Vangelo del Buon Pastore, il pastore che è in grado di abbandonare tutte le sue sicurezze, tutte le sue certezze, in grado di abbandonare un intero greggio per andare a cercare un'unica pecora che si è perduta, un'unica pecora che si è smarrita. Questo è ciò che il Signore compie sempre e comunque nelle nostre vite. Gesù è non solo l'immagine, Gesù è la realtà dell'amore del Padre che è in grado di affrontare tutto ciò che ci separa da Lui per venirci incontro, per cercarci e dopo averci trovati non ci rimprovera, anzi ci pone sulle sue spalle per ricondurci su pascoli erbosi, su pascoli buoni, su pascoli sospirati. In questa giornata ci chiediamo quanto è grande la nostra assistenza da Dio e soprattutto chiediamo a Gesù di venirci a trovare lì dove siamo. Grazie e buona giornata.